bentornati nel mio canale oggi sono si oggi sono oggi siamo in compagnia di natan ciao e io sono poche raggen ok ragazzi continuiamo alla nostra avventura su in zoom e l'event 2 fortum ho dovuto andare alla raymond perché è successo un casino perché è di tutta la scuola tipo esatto a besi market terribile perché inglese è perché non c'è in italiano ora che viena a sapere che talius ha battuto anche le vecchie glorie del raymond poi ragazzi raymond in ruins lo so no segnala la distruzione da raymond e poi ragazzi vi ricordo che già non si perderà la memoria spoiler ora vediamo la raymond distrutta con un pallone oddio bob con questi qua madonna dai questo pallone è schifoso stanno insieme a raymond una alla volta quando la prende a vendia la prende lo scioglie la facciamo magari start la passera indietro passera giù passera a natan vai natan vai 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 ora passa da lui e tira se so come tirare madonna ora non facciamo la compresa d'altro segno vai kevin tira il volo rovesciata incredibile ragazzi mi raccomando se potessi attribuire questa sera scelte sempre 10 15 con il riferimento la parata la parata e vabbè questa sera si allunga più o meno o simbilling ticcol muto la mostra di kevin la faccio vedere bravo bravo crash è bello che le mosse sono sempre le stesse e c'è il gol sto vincendo contro l'aius non è bello bravo tutti livello 2 attenzione si si il preside perumillo è in casa sotto il dio mio ma dove stai? sto qua dove? qua qua ah ok ho capito attraverso lo schermo ora dobbiamo cercare un'entrata e appunto per andare nei sottolari del papatinelli io già so dov'è mentre il papatinelli non lo so si lo so no tu non sei niente ma non è vero ok ok andiamo 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 veloci grease veloci veloce 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 feloce veloce veloce Family rega comunque se mi piace la mia grafica non l'ho fatta io ma aveva fatta PSM appunto mio smartphone è scappato ragà quindi se ne volete una avvisatelo e se volete anche dell'aiuto il profetaio è qui non ascoltate il pocherino per favore non è vero mi sono fatta io l'aiuto dei nazima non è vero si, ma perchè abbiamo la stessa no eh eh e qui c'è il mio torce no oddio che c'è scritto? da quando che stava a registrare? devo provare il posto segreto ma Mark diventa ult guardate raga da quando che stava a registrare? ecco Mark non lo so ah Jim che paura ma dai raga io direi che è buono vado un po' ma che è l'uovo? saranno 8 minuti ma ne manco ma ne manco 10 oh abbiamo fatto una amichevole e basta la fine ho appena ho appena fra un po' stop ma come? in questi dialoghi dicono che la lui sta distruggendo in pratica tutto quindi ho distrutto anche la Kirkwood io ne vai tutto lo potete vedere dal filmato io lo faccio vedere andiamo e dove stai? Mickey è morto ti dice siete i mostri tipo e si 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 bla 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 bla.. che bello parlare in inglese oh ma le ha loving Ma adesso è una cosa, in tutti gli pazzi di Neven non si è mai potuto andare alla Kirkwood, io ne erai. Sì, è vero. Io ci voglio tanto andare però. Ecco qua la Kirkwood, non mi ricordo come si dice. E quindi, anche la Kirkwood è spacciata. Sì! Ma perché stava a giocare il portiere contro i ragazzi? Stupido. Sono tutti morti. Già. Terrestri. 86 ageli. Madonna, ne manquaremo un 86 ageli. Il portiere scappa. Scusatemi che è un po' di raffreddolo però non fa niente dai. 86 ageli non è possibile, ne manco una. Ragazzi dovete sapere che io stavo tanto bello dormendo. Dopo che Richard mi ha svegliato. Mi ha plegato a mettere una sveglia che io non volevo mettere. Quindi, ce la faremo pagare. E' così gli annelli che si baciano. Non è vero. Sì sì, ci sono gli annelli che si baciano. L'ho visto. Stavano a casa mia ieri. Sì. Ah, capito. E poi me lo faccio baciare pure io. E pure tu. Seconda. Umbrella. Umbrella. Scusate. Cosa, l'umbrella che sai? Io che si chiama me l'umbrella è riga. Puzzate di merda. Ok. Allora, tu dove stai? Sì, sto nell'ombrella Preciso? Dopo la sfida, quando devo uscire alle regole Allora, aspetta, è là Allora, dobbiamo battere questi quattro inferenti Se li facciamo un culo grosso quanto in un cosco Quanto c'è in piedi a battere? Ho fatto Ma è nella tappa Andiamo all'ombrella Ho vinto Aspettami Ah, in questo video mette cannonieri allora Vabbè Cavino è nato, non questo video Perché io andiamo più tardi No, ma tanto lo parico, verso le quattro Boh, la vedo Rada, ammettetelo Io registro meglio di World Horizon Oh, ecco il gol No Vabbè Scatto repentino, tanto ormai lo so a memoria Fully dash No, vabbè, non c'è credo, non ha tirato Ok Ora posso vedere gli alieni che sono al campo dell'ombrella E che, in pratica, la spalla dell'ombrella è terrorizzata Quindi io dobbiamo cercare un'entrata Che in questo caso è a destra Oh, non mi ricordo A sinistra A sinistra A sinistra del Cancello Eh no, a destra E a destra Ci sta l'entrata per l'altro Oh, non riesco a segnare un segreto Scarzo Ma Nathan non segna È scarso Nathan No Ma che senti io ho segnato con Nathan E non segna Sti cavoli Quanto si è scarso Eh, magari gli sanno allora Dovresti fare solo Pokémon invece Ma ritiro con Nathan Non avevo idea Allora ragazzi Io sono arrivato precisamente ora alla Luce Academy La parata Oh, guarda bene, è scarso, raga Cacchio dico Sono arrivato al campo dell'ombrella, raga La partita non la faremo in questo episodio Ma in un prossimo Oh, ora usa il tiro di Kevin Mi sono rossa Abbassa Non posso nemmeno usare il tiro di Kevin Perché non c'ho più stima, donna Oh Trovessata di Kevin Oh Ha segnato Un minuto che mancava Aspetta un attimo Dai, andiamo avanti, raga Veloci Veloci, veloci, veloci 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 O Dio le sfide, no Beh dai, aspetta Manchiamo un attimo questi Quindi ragazzi Stavo dicendo che Dobbiamo battere gli alieni Anche se non li battono Quindi in questo video Appena posso salvare Terminerà qui Ma Nathan Ho regalato Nathan Lo tolgo dalla squadra subito Marotto Bravo Lo saluto io Non ti parlo più No ma la partita Non la fa fare Oh Cazzo Milolle che stupido No No Cazzo Ma come faccio Non ho idea Io non interrompo il video E la faccio al prossimo episodio Alla partita Ragazzi spero che il video sia succeduto La scelta di ci vuole sentire Per il supporto del PIA LA Ok ragazzi Stiamo all'umbrella Al cancello principale dell'umbrella Ma è chiuso Cazzo Cazzo Non ho registrato Cazzo Non ho registrato No Ah io sto ancora registrato Di parola C'erano di bestia E mi faccio Ok Cazzo Oh Mo ti segnalo Sì Vai 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 Che curiosità Oh Sì tu Oh Ok ragazzi Dobbiamo andare a sinistra Del cancello Perché c'è La Ragazzi Ammettetelo Io sono più figo Ti muovono Andiamo Alla Sinistra Io Ah E abbiamo registrato Andiamo a sinistra Volevi eh Volevi Non te l'aspettavoli Magari registrato Ok Buonissima sfida Ragazzi Scusa Andiamo Passiamola indietro Facciamo così Facciamo così Facciamo così E se magari Una panna si sbriga Ok Vai giù Vai giù Siamo dopo Io mi sento Mi calvi E poi mi richiamo Non credo Ciao ragazzi Ci chiediamo dopo eh Ciao A dopo Ciao Ho lasciato un bel dislike Per Riccardo Vai giù Bravo giù Bravo Bravo giù Complimenti Ok ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate tantissimi Like Condividete il video E Bella Ciao 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 Ciao